Mangia il kebab e nutri la jihad Buongiorno gente, sono Larus e qui su Crusader's Kings 2 nel gioco della successione Dunque, siamo in una situazione piuttosto critica C'è gli aiubidi che hanno dichiarato una jihad contro di me La serie loro califato credo che sia, sì, il... Qual è questa città? Il Cairo E voglio vedere un attimo come sono messi a forza truppe Hanno 51, aia, mila truppe Non è un granché, considerando che sto anche già combattendo un'altra guerra Voglio vedere se magari riesco a far arrivare dalla mia parte qualcuno o qualcosa Al massimo... Al massimo non so proprio come fare, potrei... E poi oltretutto sono anche scomunicato, quindi non è nemmeno un granché Però ce la faremo Dunque... Prima di fare qualsiasi cosa è meglio finire la guerra che ho già con i bizantini Quindi prendiamoci un attimo con calma, non so perché ho messo fuori queste truppe Finiamo la guerra che abbiamo con i bizantini e poi dopo possiamo pensare al resto Una cosa con calma Purtroppo la Scozia non si può muovere in guerra Il che non è nemmeno un granché E vediamo un attimo che cosa si può fare A riguardo E nemmeno l'ordine teutonico mi può seguire Oh brutto 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 Sei un da soli E c'è il duca di Est Vrigonia che vuole entrare in guerra con me Va bene Più siamo meglio è Ci sono anche i room che sono entrati in guerra Oh mio dio Oh mio dio Aspetta Siamo in guerra Con gli abbassidi Gli aiubidi Risultato di room E il... Oh mio dio Non so come ce la farò Sinceramente non so come ce la farò Oh mio dio è dura è dura Sì Il principio di Slovacchia vuole entrare in guerra Va bene L'unica cosa è che Si devono un po' sbrigare un po' tutti Puoi entrare in guerra con me dai Principe d'Inghilterra o qualcuno Ok Abbiamo catturato un bizantino lì nell'assedio In una battaglia Non so che cosa abbiamo fatto Ce la faremo Ce la faremo In un modo o nell'altro Abbiamo sconfitto i bizantini totalmente nella guerra Quindi sì Ok La guerra è finita Dunque spostiamoci in Sicilia E vediamo un attimo che cosa fare lì Dunque Possiamo Anzitutto spostare le nostre truppe Tu vedi che cosa vuoi Ti lascio lì Marcire Possiamo spostare le nostre truppe Perché qui stanno facendo sbarcare Le truppe del nemico Vediamo di fare una flotta Queste 100 Le passanavi potranno bastare E andremo ad attaccare subito il nemico In maniera preliminare Prima che possa spostare altre Oh 18.000 truppe Oh mio dio Oddio Diventa tesa la situazione Molto tesa Qua spostiamo delle truppe Mettiamole lì Cavolo Cosa posso fare? Tanto qui il nemico sta prendendo un casino di attrito Bisogna considerare Perché ha delle armate piuttosto grandi E poi anche nel deserto Quindi Stavo pensando Chiaro queste navi qui al momento Lasciamo un attimo via Stavo pensando Se noi Lasciamo comunque il nemico Fare un paio di piccole cose Così senza senso Ok Il doge di Venezia Vuole entrare in guerra Se noi stiamo così fermi A far nulla Anche il papa Oh sì E lasciamo che il nemico possa prendere un po' di attrito Noi possiamo andare avanti Nel conflitto Intanto prendiamo punti tecnologici Che sono fantastici Dunque Tanto molti stanno tentando di fare Dei claim Sui miei territori E sono principalmente sotto la Scozia Tutti questi qua Che non è un grand che nemmeno Poi ci sono dei bambini senza tutore Tipo Adolf Posso educare da un a caso Intanto sei di umili origini E' il mio principe Dunque Magari Preferirei che lo possa educare qualcuno Di cui infido Cioè io Io sono Posso essere educatore Essere educatore Però comunque è sempre una cosa piuttosto buona La consiglio Quasi sempre Tanto qui per esempio Stanno prendendo altro attrito E qua sono sbarcati i veneziani A far cosa Non lo so Cose inutili Ok Portiamo i nostri uomini lì Che magari Qua c'è una piccola Grande battaglia Qua sbarcheranno Tra poco Io arriverò qui Il 16 maggio Se sto qua Sbar Faccio sbarcare Sì E poi dopo Sbarco di nuovo E faccio vedere Che sono arrivate le mie truppe Così magari do un po' di supporto Spostiamoci Aspetta Vediamo un attimo se il comandante è buono Radu Mettiamo uno così Sì Così va bene Spostiamo le nostre truppe Che tra poco Stiamo per arrivare Sì Ottiene il tratto paziente Qua hanno vinto una battaglia Anzi Torniamo indietro Torniamo indietro Non so dove Stare E Ok La moglie è incinta Fantastico Io non so che cosa vogliono fare i veneti Adesso O i veneziani Uh Torniamo di nuovo sulle barche E scappiamo a Malta Non so Da qualche parte Dunque I veneti Voglio entrare di nuovo in guerra Fantastico E vediamo un attimo che cosa fare Del resto I veneti hanno tante truppe Questo caso è una cosa piuttosto buona Vediamo se possiamo prendere un attimo di Di leve Da noi Dunque Vedendo come è la situazione Tutte queste truppe qui Della Bulgaria Oppure da parte un po' Più balcanica Le lasciamo stare Perché comunque sono troppo distanti Qua vediamo di spostare tutte le truppe E qua Anche Il mio obiettivo è Voi Fate anzi un rendezvous A Catanzaro Ti posso anche lasciare stare Siete pochi uomini E noi andiamo a Catanzaro E vediamo di fare poi dopo Un attacco lì Cioè di spostare le nostre truppe E vedere che cosa fare In quella posizione Intanto Ho un ritardo nell'apprendimento del linguaggio Il nostro figlio Avionbert Cosa si può fare Lascia che Prenda il tempo che vuole Potrei incoraggiare Vedere sì Proviamo a incoraggiare Vediamo che tratto prende Pigro Vabbè non importa Posso chiamare gli alleati Gli scozzesi Speriamo che possono venire in guerra Adesso Si possono decidere Finalmente E noi spostiamo tutte le nostre truppe Adesso In Africa Ok Gli scozzesi sono entrati in guerra E vediamo di ottenere il tratto paziente Anche se probabilmente Non otterrà mai Però Non importa Ok Gli scozzesi L'unica cosa Che sono impegnati In un attimo In un'altra guerra Che non è nemmeno un granché Per noi Andrebbe bene Se ci fossero tutte le truppe Più o meno Pronte Al conflitto Ma siccome questo non può capitare Dobbiamo accettare la situazione Così com'è Ah Il morbillo A capua Aia E hanno preso Una fortificazione Dunque Se riesco a ottenere Una pace bianca Ovvero La pace bianca Come si ottiene Spesso in questo gioco Quando tu Il nemico arriva A war score positivo Per lui E poi dopo Tu riesci a ribaltare Un attimo la situazione Anche se non riesci a vincere del tutto Puoi sempre chiedere Una pace bianca E se tu sei in difesa In teoria Prendi più vantaggi Rispetto al nemico Quindi è sempre meglio Fare così Quando si ha L'opportunità Vediamo di bilanciare Qui Le truppe E vediamo di fare Questa piccola Grande battaglia Che intanto Il nemico È impegnato Con i veneziani A sud Che questa grande battaglia Se riusciamo a vincere Saremo molto Più avvantaggiati In te molto di più E come siamo messi a soldi Guadagnavo anche abbastanza Dunque Dei conti Voglio entrare in guerra A noi va bene Cambia poco Ovviamente Sono Piccole truppe Però Aiuta Può aiutare tantissimo Sì tu chi sei Ducato di valacchia È già qualcosa di meglio Però C'è dato un altro figlio Nel mentre E qua vediamo di vincere Questa battaglia qui Che è un po' più importante Ok Qua abbiamo vinto E il nemico Un po' sbilanciato Adesso E insoché ho il nemico Di queste 1500 truppe ormai E vediamo di fare qualche danno Piccolo danno Sono stato ferito In battaglia Aia Speriamo di sopravvivere Perché devo fare fila A sta Legge di successione Dunque Non ho nemmeno regnato Per Dieci anni Che non è nemmeno Un gran che Solo che il nemico Ha veramente troppe truppe Devo di togliere Questo assedio Se è possibile Ho ereditato La contea di Ancona Di nuovo Quindi devo dare Il castello di Ancona La contea di Ancona Qualcun altro Dunque A chi la possiamo dare Direi A corte Che c'è Tu sei un tedesco Sei abbastanza buono Sei infermo E hai una rivendicazione Sua contea di Palermo Direi che ti posso dare Comunque il titolo Della Contea di Ancona Perché probabilmente Morirai presto E torniamo a noi Dunque Prendiamo questa Di Gerba Questa piccola città Che ci conviene Dobbiamo prendere Dobbiamo prendere La città di Gerba Perché così Finalmente Possiamo andare Di nuovo avanti Nel conflitto Magari potrei Anche attaccare Queste truppe Che stanno qui In Tripolitania Potrei fare Un attacco Piuttosto rapido Però qua Sta arrivando Un nemico Con tutte le sue truppe Aia Non ce la posso fare Contro un nemico Così grande Qua sono in 18.000 Forse 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 Ce la posso fare Forse Vediamo un attimo No Si stanno spostando Tutti quanti Non so se ce la posso fare Che ho vinto Un assedio Quindi è importante Vediamo di Fare Una piccola operazione Di fuga Abbassiamo la velocità Tanto Ho preso Il tratto Codardo In battaglia Brutta roba Detiriamoci Dal tutto A Tunisi Perderemo Un po' di uomini Ma è sempre Una cosa Piuttosto buona Da fare Che il mio figlio È diventato Giusto Quindi sono Sono orgoglioso Di lui Adesso No Dove vai Torna qui Torna qui Le mie truppe Dove stanno ritirando Qua 10 novembre Che arrivati Dai che dobbiamo Subito sbarcare Una volta che siamo arrivati Cioè sbarcare 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 Potrei Potrei fare Potrei fare una cosa Una cosa Piuttosto strana Potrei fare Una spedizione Adesso che ci penso Direttamente Nel territorio Nemico Spostando 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 le mie truppe Nel territorio Di Ubid E prendere Cairo O comunque Attaccare Il nemico Che magari Si può spostare In zone Che comunque Posso controllare Meglio Si può fare Senza dubbio Si può fare Però Diventerà Tosta Diventerà Molto Tosta E dura Prendiamo anche Le truppe Della Bulgaria Intanto Mettiamole un po' Da parte E vediamo Qua purtroppo Stanno facendo Un altro assedio E hanno quasi preso Si Hanno preso Leptis Magna Il che non è Un gran che Qua ci hanno preso Di nuovo L'altra città E vediamo Un po' Che cosa fare Sto pensando A un piano Tanto gli scozzesi Non li ho ancora Visti in questo Conflitto Mettiamo Questa piccola Premessa Che gli scozzesi Non hanno ancora Fatto nulla Questo ci sta Un po' Danneggiando Un po' Tanto Potrei chiamare Un ordine Mercenario O un ordine Di Cavalieri Sacri Solo che Non ho abbastanza Pietà Oltretutto Sono stato scomunicato Potrei andare dal papa Che Rissenti Mi toglie la scomunica Cioè Per piacere No Non me la toglie Ti invio un piccolo dono Piccolo Ah è un po' grande Però comunque Ti ria scomunica No Non vuole Ho già inviato un dono Quindi non posso farne un altro Eh sì Andiamo avanti con la tecnologia Già qua non posso portare Tutte le truppe Quindi Mettiamo Che ne so Qualcuno da parte Prendiamo altre navi 18 Qua non ce ne sono abbastanza Tunisi Ne abbiamo 55 Forse possono bastare Andiamo tutti qui Vediamo un attimo Che cosa fare Dunque Però sto anche pensando Che se noi Non prendiamo Questi territori qui Alla fine Il war score Diventa Molto negativo Per noi Diventa veramente Tanto negativo Qua stanno arrivando Delle altre truppe Nella zona Quindi un bene Però qua veramente Ci sono queste 20.000 Passatruppe Che stanno dando problemi Se riesco a portare Anche le mie truppe Della Bulgaria Magari ce la posso fare Quindi Spostiamoci a Tunisi Andiamo di nuovo In quella zona Della Bulgaria Eccetera E rispostiamo Tutte le altre truppe E magari Con tutte le forze Messe assieme Riesco a fare qualcosa Magari Non è detto Comunque bisogna avere Pazienza in questa guerra Ce la posso fare E devo essere solo Molto paziente Perché comunque Se arrivano i miei alleati Qua vedo che stanno arrivando In tanti 11.000 Posso vincere Posso assolutamente vincere L'unica cosa Che questi assedi qui Stanno continuando Andando avanti Stiamo a spostarci Un po' più giù E andiamo a Gabes O a Gabes A Gabenville Non lo so Ok C'è un altro papa Chiediamo magari Di ritirare la scomunica No Ti invio un dono Ritirami la scomunica Per piacere Oh sì Grandioso Attacchiamo Velocemente Perché così Riesco a prendere Di gerba Di nuovo Ok Mi hanno revocato Finalmente questa scomunica Qual nemico adesso Non è che ha troppe truppe Là intanto La ferita se n'è andata Del tutto Stanno scadendo le tregue Ok Qua ho vinto Finalmente Vediamo di dare Un duro colpo Distruggendo le altre armate Del nemico Prima di fare altre assedi Intanto qui stanno arrivando 10.000 uomini Che è un bene Dunque Alexi ha preso l'abitudine Di organizzare Delle grandi feste Ma quanti anni hai? 13 Ah ci sta Ci sta Sì non c'è niente Che io possa fare Di mentalo surioso Fa bene È un bel tratto Mi piace Ok Dunque Devo prendere anche altre truppe qua Intanto sto pagando un po' Per tutte queste navi Truppe Eccetera Smezziamo le truppe Ah no Forse ci conviene Tenerle tutte unite Però andiamo a Djerba Perché io devo comunque Prendere qualcosa L'unica cosa È che qua Non posso tenere tutte Ste truppe assieme Qua stanno arrivando altre truppe Che possono darmi una mano Quindi io mi ritiro un po' indietro Vado con calma Che mi è morto il cancelliere Capita ogni tanto E ok Dunque Mi dispiace Ma per questa puntata Credo che sia tutto Votate e commentate Ci sentiamo alla prossima Questa guerra qua Sta diventando Veramente difficile E se gli scozzesi Magari ci danno una mano Forse ce la posso fare Alla prossima Ciao ciao Ciao